io vorrei ania ok meno male 4 stelle io non voglio vedere non voglio vedere 5 ragazzi oggi non lo voglio vedere quindi 4 stelle gradirei tantissimo ania per favore iniziamo malissimo la light con malissimo niente grazie grazie del sostegno a tutti vediamo 4 stelle vero sì meno male meno male a posto la mia vittoria personale l'ho già avuta perché non la volevo il 5 stelle ora voglio quelli della prossima faccia vediamo è questa qua la singola avevate ragione tuta orazio giuro che l'hai ritirato su silver wolf aveva ticello stavano ragazzi io mi sento ubriaca vi giuro riccardo ma perché tu sempre in questo gioco perché ma quando ma ora 5 stelle io io mi sento pazza ha trovato silver wolf capelli 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 ormai è una gag quindi devo rifarlo no ne manca una compro un'altra mamma mia ciao arce sei arrivato 5 stelle ma che animazione era del doppio 5 stelle questa ma che dici ma non c'erano delle luci strane mentre si va bene riccardo va bene l'ho letto anch'io guarda questo arcobaleno qua ma aspettate non c'è il solito l'arcobaleno non c'è l'arcobaleno qua di solito ma aspetta forse l'arcobaleno è 3 e 5 stelle eh guarda questi triangoli ora se non la finite tutti e due io vi giuro veramente vediamo pure questo quindi eravamo a pt0 quindi questo è pt2 è ancora l'arcobaleno pt3 non va via l'arcobaleno eh incredibile c'è va via il secondo oddio oddio davvero no no giuro giuro pt78 veramente giuro anch'io se vuoi e chi è questo adesso Paolo ha visto che il gente hai visto che il colore era strano io ti giuro razzi 73 raga 73 siamo tipo siamo 74 74 raga 84 mi venga non so quante singole abbiamo fatto prima ora speriamo siamo ora se lo verdo io me ne vado no raga mi giuro mi giuro no 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 deve essere quella per forza inizia a chiamare un'ambulanza per ricordo eh aspettate il simbolo è l'erudition erudition 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 sì ma lo vale eccolo sicuramente ce l'abbiamo bene almeno siamo andati oltre l'84 è già qualcosa dai speriamo sia quella giusta allora pom pom spedito per lì per uranio oh buona e due buona e due inizio molti molto bene ok 75 75 sì 76 vediamo 77 vediamo se è la prossima così c'è ragione che 78 è vero davide ha detto 78 è vero è vero 78 niente davide niente vediamo era subito dopo no no è uno è uno ah tra l'altro l'è uno di bronia è fortissima sì io che bronia non l'ho sul main account l'ho trovata di qua di là non ce l'hai? no no secca facciamo multisecca ok quindi andiamo a 88 bellissimo 78 scusami hai ragione 78 let's go ok meno male oh vediamo se è la 78 forse davide intendiamo in questa multi magari sì sì ovviamente sì sì certo adesso è la testa alla 69 no no intendiamo in questa multi io vedrai è la 78 è l'ultima in caso 72 e 5 73 74 vediamo 75 ma 75 oh è sempre quello il numero comunque naia 75 mi ha trovato 3 volte 75 è il destino lei è la regina del 75 è il destino sì a 50 qui in questa multi c'è la singola Valentino Rossi 50 mai dire mai 5 stelle 5 stelle per lì non ero pronta a 5 stelle adesso proprio non me l'aspettavo oddio oddio Valentino ragazzi se esce alla 46 io vi giuro questa è la 41 se esce alla 46 dai incrociamo le dita 41 42 43 43 44 45 45 ci siamo p di 46 46 no niente 47 48 siamo a fine 49 l'ultima dai p di 50 50 p di 0 andiamo a p di 10 c'è 5 stelle aiuto aiuto vediamo vediamo 2 3 4 5 io ed Eliana 6 7 7 8 si p di 8 andiamo p di 75 5 5 stelle ce lo abbiamo sentendomi così Hammer sentendomi così vediamo eccoci io e Eliana vediamo se saremo di buon auspicio 76 77 78 yes si vinto anche questo a 61 62 63 64 65 66 si 5 stelle 5 stelle 5 stelle vediamo allora 75 era questa 76 77 un Luca l'avevamo detto che usciva Luca l'avevamo detto che un Luca lo beccava anche lei non la Lightcon ma un Luca è uscito io non ci credo vabbè questo è un cazzo di meme veramente 78 79 la E1 di Byru let's go il best cioè possiamo andare dopo l'oroscopo andiamo Pifi 84 si va 5 stelle e la cosa abbiamo chiarito che 5 stelle c'è vediamo dai 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 vediamo allora Pompon vola nell'iperuraneo vediamo ok questa 75 76 77 78 79 80 oddio dov'è 81 io ho perso oh Ania buono ok dovrebbe essere 81 con questa ora ne ho 82 Yacin Yacin oh l'unico l'unico che voleva 3 2 1 via si parte allora intanto ho paura almeno c'è infatti io volevo chiarire il punto perché non si sa mai dai Argenti per favore è una delle poche persone che ti apprezza ma che ti può volere quindi insomma su via collabora ciao l'isoform no no la bambina andiamo Piti quindi 71 singoletta oh 5 stelle oddio che imparto hai tirato la singola la multi no la multi ah ok ok allora controlliamo controlliamo se è prima del Piti allora 1 Albi viene si salva se viene si esce dopo la 75 Albi è bannato allora 1 1 2 2 3 3 agenti sei un pagliaccio 4 aspetta perché hai l'ultima singola 5 si banniamo Albi è la 75 se esce prima è giusto è vero banniamo Albi eccola allora preghiamo 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 singola dell'erudition e che non sia quella di Meco ti prego ti scongiuro basta non voglio più sapere no 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 refine 3 miglior maid di tutto starry non ha bisogno di richiami arriva quando vuole arriva ora ne escono 2 ti giuro ora ne escono 2 ti giuro se ora ne escono 2 io guardo veramente io guardo veramente non ha parole vediamola questa è la 75 76 eccolo 77 quando ciao Valentina non dicevo un richiamo a lui è arrivato non è arrivato Davide basta io me ne vado io me ne vado ciao è stato un piacere ciao ciao ragazzi ciao gestirò un ottimo funerale allora ragazzi io sono la sedia di marty quella che vedete in webcam ha questa voce ci siamo ci siamo vermi belli fa stracazzo ridere allora va bene andiamo momento zen 65 povero pom pom come Riccardo questa voglia di far volare pom pom 67 68 69 scusa quando vola ci sono dei 5 stelle è bellissimo quando vola 70 oh mandolè 71 pronti Davide te la senti me la sento dai andiamo pt74 la speranza è l'ultima a morire eccola eccola sì sì il farming in diretta funziona sì il farming in diretta è la via eccola qua sì rifarmato in live è presa è molto bella ci siamo ok 75 liscia 76 yes per i 76 vinto devo vinto let's go no ancora un'altra meno male ce l'abbiamo eccoci qua let's go 5 stelle ce l'abbiamo nella multi c'è 5 stelle ok 61 62 63 64 65 66 67 67 68 68 69 69 sì la light 69 69 69 60 60 65 69 60 61 80 61 62 62 62 61 62 62 62 80 61